La peregrinazione è la peregrinazione abbiamo che arrivare alla fine, abbiamo che ascendere, questo anno abbiamo che ascendere, abbiamo che ascendere, come si ascende? Mente, forza, aficione, tutto il club, però abbiamo che andare allì, a vedere il bocchetto e animare al club, questo anno ascenderemo, vai come a me, arrivare all'interno, arrivare all'interno, arrivare all'interno a vedere il bocchetto! Grazie!